Più volte erano stati sottoposti a controlli delle forze dell'ordine, ma questo non aveva fermato la loro attività dedita ai furti in appartamento molto spesso abitati da anziani. Quattro persone tutte originarie dell'ex Unione Sovietica e domiciliate nel quartiere napoletano di Forcella sono state arrestate stamane dagli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, diretto dal primo dirigente Paolo Esposito, su delega della procura della Repubblica di Torre Annunziata. I quattro sono accusati di associazione a delinquere finalizzata ai furti nelle abitazioni, in particolare alla banda, vengono contestati tre colpi messi a segno negli ultimi due mesi a Torre del Greco, portici ed eboli, ma tanti sono i casi ancora all'attenzione degli inquirenti che indagano anche per una serie di episodi verificatesi fra l'altro in Basilicata.